Ciao a tutti da AC News, vediamo il trailer di Mia moglie per finta, subito dopo le notizie di oggi. Hai sposato? No, 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 no. Ha bisogno di trovare il modo? Di lei che hai chiesto il divorzio. Devo sentirlo dire da lei. E se ti mandasse un sms? Di raggiungere nuovi livelli di menzogna. Vuoi che sia tua moglie per finta? Voglio creare l'illusione che ho avuto una prima moglie sexy, non così. Ah sì? Va bene, ci sto, andiamo. Columbia Pictures presenta. È quella? Credo di sì. Hai la mia benedizione. Mando un messaggino alle amiche. Dimenticavo, hai 15 anni. Ai, mi hai dato un calcio. Io no. E tu? Quando torno a casa, signorina, facciamo i conti. Hai dei figli? Prendere in prestito i miei figli? Ti sei bevuto il cervello? Vi piacerebbe fingere di essere miei figli? Posso parlare con l'accento? Fammelo sentire. Ponto? No. Perché non mi porti a Hawaii a nuotare coi delfini? Non se ne parla. Allora trovati un altro. Me la farei anch'io una falsa famiglia per questa. Mia moglie per finta. Da quanto siete sposati? 10 anni. Dieci anni. Comunque un'eternità. Il regista Dennis Dugan torna a collaborare con Adam Sandler dopo le fortunate commedie Zoan, Big Daddy e Un Weekend a Bamboccioni. Sandler è Patrick, un incurabile scapolo che finge di essere sposato per non impegnarsi con le donne. Ma quando incontrerà la ragazza giusta, le sue bugie si rivolteranno contro. Nel cast, anche la bella Jennifer Aniston. Continuiamo a parlare di Adam Sandler. L'attore interpreterà e produrrà il film scritto dallo sceneggiatore dei mitici Simpson, Mike Weiss. La pellicola si intitola Fat Man e racconta la storia di un uomo sovrappeso deciso a dimagrire. Ricoverato in una clinica specialistica, si innamorerà dell'infermiera che lo segue. E per oggi è tutto. Arrivederci da AC News.